Ciao Carlo, una stagione che ti vede addirittura sul palco, un palco prestigioso come quello dell'Arison come ti hai voglia, ci avresti voglia se te lo proponessero realmente? L'ho già detto, no, no, è un ruolo che non mi appartiene, avere quell'empatia del pubblico, saper relazionarsi con i cantanti, con la gente, lo fanno così bene Amadeus, Carlo Conti, io faccio un'altra cosa, non sarei capace, sarei finto, te lo dico con molta sincerità, non sono capace, è tanto semplice, però ho fatto finta di essere capace in questa terza stagione. Perché in fin dei conti uno può realizzare i propri sogni anche per quello che c'è. E beh, è un po' arromanzato, quindi immaginiamo che mi sforzo a fare questa cosa che tutti vogliono che io faccia, e un po' mi viene bene e un po' vedrete come andrà a finire. Va bene, un abbraccio.